teoria dell'agire comunicativo è un importante saggio in due volumi di jürgen habermas apparso nel 1981 la partizione habermasiana nell'opera riprende per certi versi quella compiuta a suo tempo da max weber in economia e società in quest'opera max weber individuava anche gli quattro tipologie dell'agire l'agire razionale rispetto allo scopo l'agire razionale rispetto al valore l'agire affettivo e l'agire tradizionale ora jürgen habermas nella teoria dell'agire comunicativo individua anche gli sia pure su diverse basi rispetto a max weber quattro modalità fondamentali dell'agire l'agire strategico anche detto agire teleologico strumentale vi è poi l'agire regolato da norme l'agire drammaturgico e infine l'agire comunicativo l'agire strategico è di fatto quello che max weber aveva chiamato l'agire razionale rispetto allo scopo alla base di esso vi è il presupposto in coerenza con il quale noi agiamo in vista di scopi ben precisi ed è perciò stesso detto anche agire teleologico cioè finalistico noi adottiamo una certa strategia per poter attuare fini che ci siamo prefissati ciò vuol dire che a dirigere questo agire sono il calcolo dell'utile e dello scopo finale un calcolo che tuttavia viene appellato in maniera diversa come fine come scopo e che è chiamato a tener conto del fatto che il soggetto agente non è solo e per così dire sotto una campana di vetro al contrario si trova ad agire in presenza di altri attori che come lui agiscono con una razionalità strumentale e come lui hanno scopi che possono confliggere con quelli del soggetto significativamente habermas dice che si ha l'agire strategico solo se prendiamo le mosse da almeno due attori quindi almeno due attori devono esserci secondo questa definizione non c'è agire strategico nell'agire di filottete abbandonato sull'isola deserta non c'è agire strategico in robinson cruset quando all'inizio agisce da solo sull'isola diventa agire strategico quando incontra venerdì e gli attori diventano due se le norme dell'agire strategico sono per dirla cantianamente imperativi ipotetici nella forma se x allora y se vuoi il potere allora devi riconoscere l'importanza della forza o della frode nell'agire regolato da norme che il secondo tipo di agire individuato da habermas le norme in questione possono essere accostate all'imperativo categorico di kant infatti si riconosce sì l'esistenza di una dimensione in cui vige la frode la violenza l'utile ma si ritiene anche che accanto a questa dimensione ve ne sia un'altra coincidente con il mondo dell'agire morale e del dovere così spiega habermas l'agire strategico fa riferimento a un solo mondo a quello degli stati di fatto e degli eventi al wittgensteiniano mondo del tutto ciò che accade al contrario l'agire regolato da norme ha per così dire un immaginario sdoppiato da che oltre al mondo reale configurante siccome un quacervo di fatti vi è anche un mondo di fini e di valori scrive a tal riguardo jürgen habermas il concetto di agire regolato da norme presuppone relazioni tra un attore due mondi al mondo oggettivo degli stati di fatto esistenti si aggiunge il mondo sociale dell'agire regolato da norme come il senso del mondo oggettivo può essere spiegato in riferimento all'esistenza di stati di fatto così il mondo sociale può essere spiegato in riferimento all'esistenza di norme per quel che concerne poi il terzo tipo di agire individuato da habermas l'agire drammaturgico è quello in grazia del quale gli individui agiscono ai fini di un'autorealizzazione simbolica quasi come se gli individui si mettessero in scena e recitassero con grande enfasi una parte questo tipo di agire è così connotato da habermas dal punto di vista dell'agire drammaturgico scrive habermas intendiamo un'interazione sociale come un incontro nel quale i partecipanti costituiscono gli uni per gli altri un pubblico visibile e si rappresentano reciprocamente qualcosa a tal riguardo risulta di particolare importanza la nozione di pubblico che pur era in certa misura presente anche nell'agire strategico e non in misura minore anche in quello regolato da norme nel caso dell'agire drammaturgico però il pubblico acquista una validità una valenza un'importanza fondamentali da che è costitutivo di quell'agire stesso che si svolge fine a se stesso e che sotto questo riguardo può essere detto agire per l'agire è un agire finalizzato a sé è un agire autotelico diremmo si tratta evidentemente di un agire espressivo in cui rientra ad esempio l'arte stessa e la forma di agire in cui meglio sono racchiuse custodite le componenti sentimentali dell'azione umana le passioni le evoluzioni le pulsioni il quarto tipo di agire infine quello su cui habermas costruisce la propria opera per differenza rispetto agli altri tre tipi di agire e l'agire comunicativo l'agire comunicativo è quello inteso o meglio orientato a creare un'intesa si tratta di un agire in cui entra in gioco la dimensione linguistica che rientra tra le caratteristiche che distinguono l'uomo dalle bestie in ciò habermas resta stritto senso aristotelico l'uomo è uomo e non animale e non semplice animale perché ha il logos che è la ragione linguistica il linguaggio razionale l'uomo quindi è quell'animale che è dotato di logos si differenza si differenzia dagli animali perché è l'unico animale avente il linguaggio scrive habermas in riferimento all'agire comunicativo si riferisce all'interazione di almeno due soggetti capaci di linguaggio e di azione che con mezzi verbali o extraverbali stabiliscono una relazione interpersonale e quindi abbiamo sotto questo riguardo la teorizzazione di un tipo di agire diverso rispetto agli altri che appunto habermas qualifica come agire comunicativo la teorizzazione habermasiana dell'agire comunicativo che è il cuore dell'opera dell'81 come si diceva ma che poi al centro di molti altri testi habermasiani di fatto è frutto di quella svolta linguistica linguistic turn tipico del novecento che conosce in habermas un autore di riferimento ma non l'unico naturalmente e in teoria dell'agire comunicativo teorizzando l'agire comunicativo come distinto dagli altri tipi di agire poc'anzi evocati habermas viene elaborando una una vera e propria pragmatica del linguaggio di fatto una pragmatica del linguaggio in cui habermas teorizza di fatto una modalità con cui il linguaggio si sviluppa in particolare chiunque partecipi a un'argomentazione razionale sensata quindi a un dialogo a una comunicazione implicitamente presuppone alcune pretese universali di validità prima pretesa riconosciuta è la riktigkeit la giustezza ogni dialogante dice habermas deve rispettare le norme della situazione argomentativa ad esempio bisogna ascoltare le tesi degli altri o ritirare le proprie qualora si siano dimostrate false secondo principio presupposto del dell'agire comunicativo è la verità varait ogni dialogante deve formulare enunciati esistenziali appropriati terza prerogativa è la veridicità varavtikheit ogni dialogante deve essere sincero e deve essere persuaso dei propri asserti quarto principio fondamentale è la comprensibilità verständlichkeit ogni dialogante deve parlare in maniera aderente al senso e alle regole grammaticali se anche una sola di queste quattro pretese non fosse soddisfatta allora si smonterebbe precipiterebbe evaporerebbe ipso facto la possibilità di un'inter di un'intesa fra i dialoganti naturalmente queste diverse pretese comportano che la comunicazione si dia tra soggetti liberi privi di condizionamenti di autorità o di interessi ma unicamente sul fondamento della capacità di persuasione delle ragioni migliori tutte queste pretese proprie dell'agire comunicativo hanno un valore etico oltre che logico e a tal riguardo danno vita a una vera e propria etica del discorso come habermas la chiama in un altro suo testo importante discursetica l'etica del discorso quando tutte le pretese poc'anzi enunciate sono soddisfatte allora si ha la situazione discorsiva ideale come la chiama habermas che poi un modello di società giusta incentrata sull'uguaglianza dei dialoganti una società socratica potremmo dire in cui prevale la ragione migliore quella che nel dialogo e nella comunicazione si esprime avvalorando le proprie tesi e rispettando i principi di giustezza verità veridicità e comprensibilità sotto questo riguardo l'etica del discorso è un'etica cognitivistica cioè che fonda razionalmente le norme etiche è ancora un'etica deontologica che si riferisce a principi inaggirabili è un'etica formalistica che fonda principi procedurali e non contenuti ed è ancora un'etica universalistica da che è valida per tutti gli enti dotati di logos ancora è un'etica post kantiana da che non è kantianamente una faccenda morale che riguarda il singolo soggetto ma semmai una questione pubblica che inerisce a tutti i dialoganti potremmo dire che in termini Weberiani è un'etica della responsabilità e non dei principi naturalmente il limite di questa prospettiva sta nel fatto che se analizziamo i rapporti di forza difficilmente potrà valere quest'etica o più precisamente l'etica del discorso e dell'agire comunicativo di Habermas e poi anche del suo compagno di elaborazione Apple è un'etica che vale all'interno di un seminario universitario in un dialogo di filosofi ma difficilmente varrà al cospetto dei rapporti di forza difficilmente i dominati potranno persuadere i dominanti con l'etica del discorso abermasiana e quindi l'elemento del potere dei rapporti di forza marxianamente intesi sembra essere purtroppo eluso dall'etica del discorso abermasiana.